Allora abbiamo lanciato ieri come tutti i lunedì i nostri sondaggi in collaborazione con l'Istituto Tecne quelli di ieri sono dedicati alla città di Genova, Genova è una città ideale per gli anziani sì o no Genova è una città ideale per i giovani sì o no insomma la sorpresa, la visti in qualche modo, erano i numeri, i percentuali che lei si aspettava? Ieri sera vi ho ascoltato con molto interesse e così come tutti i lunedì sera è piacevole prendere parte in ascolto in quello che sono i sondaggi particolarmente poi ieri sera mi faceva piacere ascoltarvi perché c'erano degli ospiti a me cari sia nel mondo dell'imprenditoria giovanile così come nella parte senior I risultati è un dato incontrovertibile, credo che la città di Genova sia un'amalgama tra persone anziane e persone giovani quindi il percepito delle persone anziane è chiaramente un percepito reale ed è un percepito che è legato a quelli che possono essere dei servizi di prossimità dei servizi che diventano sempre più accessibili, un territorio che riesce a essere ospitante ed ospitale sotto il profilo del coming out delle persone anziane Ieri si diceva del nostro compianto Presidente Odone quanto si era battuto per il tema della silver economy di questi anziani stanti bene e benestanti che avessero la possibilità di poter prendere parte alla vita sociale del nostro territorio portando quello che è lo sviluppo del tessuto commerciale e del tessuto imprenditoriale quindi credo che il dato sulla parte anziana sia un dato reale e realistico per quanto invece si diceva dei temi giovanili credo che, e bisognerebbe poi chiedere all'autorevole Luca Sabatini su qual è poi il reale percepito dei giovani, perché se parliamo di impresa è sicuramente un dato che oggi sta mutando se è legato ai servizi è chiaro che anche questo è un dato che deve essere un po' sviscerato perché è chiaro che la nostra città parte da un presupposto anziano ma credo che in questi anni l'evoluzione e lo sviluppo della nostra città abbia messo anche a fattor comune quello che è la convivialità tra giovani Senti, ieri sera se hai visto la puntata c'era anche Simone D'Angelo segretario provinciale del Partito Democratico che insomma lui invece, un po' perché ovviamente è anche parte del gioco ha posto comunque un po' l'attenzione su alcune problematiche legate proprio anche al mondo dei giovani ne sentiamo un piccolo stralcio in modo che così poi lo commentiamo insieme ieri sera è stato anche un bel dibattito anche perché ovviamente tanto funziona soprattutto per gli anziani c'era tante cose che si possono ancora fare è ovvio, è normale che gli anziani stiano bene in una regione poi Genova ma vale un po' per tutta la nostra straordinaria regione insomma stare a contatto con il mare, con le bellezze della natura insomma è un'altra cosa che abitare a Ro o a Varese, penso e immagino è ovvio che questo comunque comporti, più anziani ci sono, più servizi sono necessari più la sanità deve funzionare, insomma c'è tutta una macchina che si allunga tra l'altro Genova e la Liguria hanno, sia per quanto riguarda gli uomini che le donne due anni in più di media di vita rispetto alla media nazionale Le donne sono più longeve da sempre, a prescindere da Genova e da Liguria Ma hai perfettamente ragione, poi ascoltiamo le parole del segretario del PD il tema, segretario provinciale, il tema io credo che non dobbiamo parlare di sanità in quanto sanità perché non deve diventare Genova quartiere generale di persone che non stanno bene e venire a percorrere l'ultimo tratto della loro vita Genova deve diventare un porto ospitale per tutte quelle persone che decidono di tornare a vivere in un sistema inclusivo dove anche le persone anziane, incluse in un mondo magari un po' più giovanile di una città che si riesce ad aprire, riescano a creare questa buona amalgama dove anche le persone anziane possono essere di supporto, come dicevo prima alla ripresa economica di tante imprese che i giovani stanno portando avanti quindi con piacere ascoltiamo Se l'abbiamo, grazie, lo sentiamo subito Regione è una città dove molti giovani che si formano scappano e questa differenza tra l'altro della fuga da questa città colpisce soprattutto i quartieri ad alto reddito per giovani istruiti cioè noi abbiamo un esodo di giovani istruiti dalla nostra città che fuggono o nel nord Italia o fuori dal nostro paese restano soprattutto i giovani dei quartieri popolari Ora, se dovessimo fare una riflessione generale potremmo dire tranquillamente che a Genova resta chi non ha i mezzi materiali per fuggire in molti casi e resta chi in qualche maniera è disponibile un po' a mediare rispetto alle legittime aspirazioni personali Ecco, in questo senso penso che la riflessione forte è come un'amministrazione comunale come un governo regionale sia in grado di creare le condizioni affinché Genova sia un elemento un soggetto attrattivo per sicuramente nuove risorse l'abbiamo visto e ascoltato qui stasera ma crea anche quelle condizioni affinché chi si forma qui non preveda in maniera quasi automatica la fuga da questa città Parla vicino Beh, io credo che l'opposizione debba fare opposizione da sempre quindi poi si spinge sempre nel sentiment di creare queste spaccature tra chi può permettersi qualcosa di più rispetto a qualcuno di meno Che però è sempre esistito L'altro sera, non ieri sera ma pochi giorni fa parlavo con un amico mi raccontavo un amico, diciamo così, a dire poco benestante è il figlio a Boston e l'altro è a Londra Però questo voglio dire Come fai a combattere, fa virgolette è sempre successo, anche quando andavo a scuola quando ero sempre più giovane ma è sempre successo se andava prima a Milano ora magari si va a Londra non basta forse neanche più Milano ora si va a Londra però l'esperienza di ieri sera dalla vicina abbiamo visto dei ragazzi che invece è questo il valore aggiunto qualcuno è tornato perché diceva che il sinaco Bucci è giusto anche andare fuori ma poi è giusto tornare e portare le proprie esperienze le proprie note Assolutamente sì se l'andare fuori è propedeutico poi a ritornare con la consapevolezza di portare il proprio bagaglio di esperienza sul nostro territorio di Genova benvenga tutti quei trasferimenti su altre città io credo che c'è stato un momento importante sotto il profilo sociale di cercare la fortuna altrove nella speranza che i propri desideri le proprie aspettative di vita si possano andare a concretizzare in qualche altra città anche perché forse noi stessi non crediamo nel potenzialità del nostro territorio io credo che queste diversità culturali diversità sociali diversità economiche ci siano sempre state fin dai tempi di cui ho memoria però credo che poi questo in realtà vada un po' oltre con la volontà di tutti noi di mettersi in gioco noi con l'osservatorio di commercio giovani per quelle che sono le imprese giovanili ma anche per il lato senior abbiamo sempre dato un dato incoraggiante ai nostri giovani basti pensare tutte le misure di tutela non per ultima la Cassa Commercio Ligure che è uno strumento che utilizza dei fondi FERS per dare incentivi economici alle piccole e medie imprese dove proprio con un ragionamento con il mondo istituzionale si è ritenuto validante poter andare a inserire per quelle imprese che hanno il 50% di donne o il 51% di capitale under 35 di poter dare dei finanziamenti a fondo perduto proprio per consolidare la permanenza nelle proprie imprese ma prendo ad esempio ieri avete ospitato l'amministratore delegato di Talent Garden Alessandro Cricchio che oltre ad essere un amico è anche una persona che ci vede attivi su tantissime partite con lui abbiamo sviluppato più lui che Dio forse un ecosistema che mira proprio alla volontarietà di far consolidare le imprese giovanili in Genova tra l'altro con un sogno non troppo neanche velato di creare un primo quartiere un ecosistema un modello virtuoso dove le persone possono fare impresa fare sistema avere rapporti sociali e riuscire a mettere fattore comune le esperienze anche per quelle diciamo diversità economica culturale che si diceva prima dove magari chi ha un po' meno può essere aiutato da chi ha un po' di più io credo che questo sia il valore di una comunità perché se no sarebbe troppo limitativo vuol dire hai qualche soldo di più puoi andare a Boston non hai qualche soldo di più devi andare a fare un lavoro un po' più umile io credo che oggi i nostri giovani sono anche un po' stereotipati da questi modelli di business semplici perché adesso basta aprire Facebook e uno diventa miliardario e ricco solo facendo un po' di immagini ma credo che poi nel lungo periodo sia tutta una cosa aleatoria che non porti sostanze consolidamento né a se stessi né ai territori quindi bisognerebbe ritornare anche a formare le generazioni che quel modello è un modello ormai già superato perché le persone stanno piano piano uscendo dalle piattaforme ma che ritornando a vivere degli ecosistemi cittadini inclusivi con un valore di persone e un valore di imprese si riesca a fare ancora imprese l'intervatorio dovessi consigliare in qualche modo a un giovane anche di un percorso di studio e anche quello universitario per poi poter rimanere a Genova che consiglio daresti insomma quali sono le attività e i lavori in qualche modo più richiesti da una ma in questo momento allora ha detto che mancano anche i lavori più più semplici fra virgolette no? anche i lavori si usano le mani si usa la forza quindi a un porto c'è un sacco di lavoro che manca gli autotrasporti i vecchi camionisti di una volta mancano quindi insomma ci sono tanti lavori tante attività che sono in difficoltà ma proprio invece per un percorso di studio Genova potrebbe essere forte oggi ma anche domani dove? Genova secondo me è forte già adesso cioè ha un Unige un Ateneo che ha eroga una piattaforma infinita di corsi di laurea che sono altamente specializzati non credo che ci sia da inventare cose nuove o un percorso che sia più validante di altri o un percorso che sia meno strutturato per fare impresa domani io credo che bisogna tornare a rendersi conto di che cosa significa essere un collaboratore d'azienda cosa significa essere un manager cosa significhi fare imprese cosa significa fare imprenditoria e perché dico questo perché con ConfCommercio e Talent Garden apriremo a breve poi ne racconteremo sicuramente se ci darete spazio un punto impresa futura cioè tutti coloro che vogliono e desiderano fare impresa poter rivolgersi ai nostri uffici di ConfCommercio per mezzo dello sportello che avrà sede in Talent Garden ma perché facciamo questo perché grazie al centro produttità Ligure della Camera di Commercio CLP ci sono 643 soggetti che presentano una loro idea progettuale e il vero valore aggiunto non è dire di sì a fare impresa è anche informare spiegare consolidare che alle volte si deve essere più abili e si è più abili a fare il collaboratore d'azienda che non significa essere un dipendente sfruttato dove viene sottopagato dove non gli vengono bisogna fare un po' di educazione all'impresa bisogna tornare a essere degli innovatori mantenendo un piede sulle tradizioni perché dico questo perché oggi c'è una carenza nel settore della ristorazione di cuochi aiuto cuochi lavapiatti camerieri eccetera eccetera ma perché siamo arrivati a questo siamo arrivati a questo perché abbiamo alzato il livello del percepito di questo lavoro è chiaro che quando nel mondo della sanità di Cilos è quella che raccoglie solo gli escreventi degli anziani è chiaro che poi lì non vai a fare quel lavoro ma se invece vai a raccontare che il cameriere è il biglietto da visita del ristorante che è quello che poi va al servizio al contatto con la clientela eccetera 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 dai di nuovo dignità al lavoro quindi bisogna fare un po' questo tipo di sforzo ritornare ad insegnare nei percorsi universitari che ripeto l'Unigeo e l'Ateneo sono altamente qualificati un valore anche in prospettiva del lavoro che si andrà a fare grazie a tutti